salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video tutti coloro che mi seguono su instagram lo sapranno già da pochi giorni mi è arrivato il nuovo macbook del 2016 modello 15 pollici con touch bar tra ieri e oggi mi sono impegnato a non utilizzare per niente l'ekintosh che ho qui sotto e a concentrarmi invece solo sul nuovo portatile e dopo 48 ore di utilizzo sono pronto a darvi le mie primissime impressioni a freddo intanto ci tengo a dire che tra pochi giorni uscirà sul canale la video recensione completa di questo macbook pro e sarà uno dei video più completi complessi ed elaborati del mio canale visto che tutte le cose da dire sono infinite ci metterò veramente molta fatica quindi mi raccomando quando uscirà non perdetevelo ho deciso di non fare il classico video unboxing perché sarebbe arrivato troppo in ritardo peraltro sono molto indietro con la programmazione dei video da poco mi sono arrivate anche le nuovissime apple airpods devo fare il video anche su di loro tutto arriverà in questi giorni comunque ora ci concentreremo solo su di lui vi dirò tutte le cose che ho amato e tutte quelle che sto odiando iniziamo con la configurazione questo modello specifico di macbook però è costato 3279 euro e per questo prezzo presenta un processore intel i7 6700 hq a 2.6 gigahertz con turbo boost fino a 3.5 con una scheda grafica integrata poi presenta una seconda scheda grafica dedicata che è una amd radeon pro a 460 da 4 gigabyte 16 gigabyte di ram a 2133 megahertz ddr3 perché la 4 se la sono dimenticata un ssd nvme da 512 gigabyte con delle velocità di lettura e scrittura spaziali e un fantastico display da 16 decimi attenzione non 16 noni di risoluzione 2880 per 1800 pixel prima affermazione che sorge spontanea il prezzo per questi componenti è esagerato sono consapevole di aver speso troppo per questa configurazione senza contare che il modello base da 15 pollici costa ben 2800 euro se facessimo un rapido calcolo il prezzo del processore più quello della scheda video più quello della ram e più quello dell'ssd in totale si aggirebbe intorno ai 1700 1800 euro al massimo il che significa che nemmeno il display o la tanto fantomatica touch bar basterebbero a giustificare questa spesa ma riprenderemo il discorso tra poco la prima cosa che ho pensato subito dopo averlo acceso è stata ok visto che questo macbook però ha solo quattro porte thunderbolt 3 parentesi non sono usb c sono porte thunderbolt 3 compatibili con la tecnologia usb c puntualizziamo non resisterò cinque minuti di numero senza un adattatore e infatti cinque minuti dopo volevo installare windows in dual boot tramite bootcamp visto che apple me lo consente per eseguire alcuni test scarico la iso e oh come la metto nella usb soprattutto come la inserisco la usb di installazione e dunque detto fatto scendo subito sotto casa e spendo i miei primi 30 euro per il mio primo adattatore da usb c a quattro porte usb a dunque lo attacco tutto contento al macbook apro finalmente bootcamp e scopro che quest'ultimo si è aggiornato e sui nuovi macbook pro e macbook consente di installare windows direttamente dalla iso senza bisogno di supporti di memorizzazione esterni a parte l'aver agito impulsivamente l'aver comprato un adattatore nell'istante in cui effettivamente non mi serviva questo mi ha fatto riflettere su una cosa devo riconoscere che mac os sta facendo il possibile per agevolare gli utenti ricompensandoli per praticamente la mancanza di quasi tutte le porte che conosciamo però c'è il jack delle cuffie resta il problema di fondo però che banalmente qualsiasi cosa io voglia fare ho bisogno di un adattatore ora è vero che in realtà apple bisognerebbe solo che ringraziarla perché è la prima azienda che sta facendo il passo più lungo della gamba rimuovendo tutta la tecnologia di input e output tentando di unificarla in un'unica porta universale lei ci è riuscita perché se l'avesse fatto una qualsiasi altra azienda che era già magari sull'orlo del fallimento sarebbe affondata completamente se invece lo fa un colosso come apple è come se indirettamente obbligasse tutti i produttori di accessori dal più potente al più infimo nella scala gerarchica ad adattarsi al nuovo standard quindi è solo questione di resistere qualche mese al massimo un anno dopo di che non sarà più questione di prendere un adattatore per collegare per esempio questo hard disk ai laptop con port usb c perché produrranno direttamente gli hard disk con uscita usb c sarà il nuovo standard capito ora siamo nel periodo di transizione che dobbiamo un po sorbirci tutti tappandoci il naso tuttavia dietro a queste quattro porte thunderbolt 3 c'è una storia oscura veramente seria e non molto bella ma me la riservo ve ne parlerò nella recensione completa così per creare suspense ma trattiamo dei suoi componenti svisceriamolo per bene e finiamo col parlare della tastiera per esempio è la fine del mondo su di essa non ho veramente la mentele questo schema di tasti molto sottili con il meccanismo a farfalla che effettivamente ricordano un po il feeling che si ha con una tastiera meccanica vi fanno abituare subito e vi permettono di scrivere in maniera estremamente rapida con un margine di errore veramente basso ma questi ovviamente sono gusti personali spostiamoci invece più in basso e vediamo quello che credo sia il trackpad più grande sulla faccia dell'intero universo è stato volutamente realizzato così affinché uno abbia un margine di spazio estremamente elevato e abbia la certezza matematica senza dover togliere lo sguardo dal monitor che spostando il dito nella parte bassa del computer in qualsiasi punto lo becchi sicuramente e ci sono riusciti infatti è l'unico trackpad che adoro e che non mi fa assolutamente sentire la mancanza del mouse veramente 110 elode e adesso siamo giunti alla novità più discussa di tutte quella che tutti voi volete vedere non si illumina più il logo della mela sul retro no scherzavo parliamo della touch bar eh sì proprio della touch bar questo display secondario o led presente nella parte inferiore del mac sopra la tastiera che è mi allora la parte all'estrema destra è fotonica mi riferisco ovviamente al lettore di impronte digitali che poi alla fine anche il tasto di accensione riconosco che sbloccare il mac cambiare utente o dare i privilegi di amministratore a un'applicazione facendo così è comodo il resto della touch bar a discapito di quanto molti dicano è fenomenale o meglio lo sarebbe se apple lo continuasse nel tempo per quei pochi che ancora non lo sapessero la touch bar è per l'appunto questo secondo schermo a striscia che mostra diversi bottoni rapidi funzioni rapide in base alle applicazioni che stiamo utilizzando sullo schermo principale hanno avuto delle idee veramente intelligenti e non è vero che sono scomode perché per utilizzarle devo spostare lo sguardo dallo schermo principale vi garantisco che è un movimento naturale poi è vero che alcune sono completamente inutili come i suggerimenti della tastiera possono avere un senso su uno smartphone ma non su un portatile secondo me altri però sono fenomenali ad esempio ho amato questa touch bar in final cut il programma che uso per montare i miei video che mi permette di avere sotto l'intero controllo di tutta la timeline quindi posso muovermi rapidamente tra le varie parti del video e sopra il classico editor video zoomato questa funzione per esempio fa veramente risparmiare tempo e rende tutta l'esperienza più fluida oppure comodissima anche la tendina multimediale sempre attivabile che mi consente di muovermi avanti o indietro nella canzone che sto ascoltando anche se per esempio la canzone proviene da un video di youtube e anche se la sto ascoltando in background mentre faccio altro è una cosa che posso fare da due giorni mi ci sono già abituato e la sto utilizzando sempre il problema vero è che questa touch bar cadrà nel dimenticatoio esattamente come il 3d touch esattamente come l'apple tv per esempio se tutti gli sviluppatori di applicazioni di successo aggiornassero queste ultime per renderle intelligentemente compatibili con la touch bar sarebbe tutto molto più interessante ma a quanto pare più interessante realizzarci sopra la moda di nyan cat e quindi è questo il mondo che ci siamo voluti per quanto riguarda la batteria lo sto provando da troppo poco tempo per darvi delle impressioni vi posso però dire che dura pochino sicuramente molto meno rispetto al macbook pro del modello precedente ora ormai lo sappiamo e non ci si può fare nulla apple è stata la prima a lanciare questa stupida moda di chi ce l'ha più sottile e quindi per rendere più sottile questo laptop che è un laptop pensato per professionisti quindi che deve fare cose pesanti che consumano energia ci ha rimpicciolito la batteria ma di tanto avrei preferito mille volte un macbook spesso così con la batteria che mi dura 24 ore o comunque una via di mezzo e invece no dai pochi test che ho effettuato con un utilizzo medio basso senza quindi nessun rendering operazione grafica pesante riuscite a tirare al massimo ma veramente al massimo le 5 ore 6 se tenete la luminosità bassa certo poi c'è anche da dire che un macbook spesso come un foglio di carta come questo è veramente portabilissimo in definitiva questo macbook pro è una fregatura no ci ho pensato molto prima di acquistarlo e se l'ho comprato c'è un motivo e adesso vi dico qual è come mi aspettavo un utente riuscirà ad apprezzare questo dispositivo a tre condizioni numero uno dovete farci sopra un qualcosa di professionale non lo comprate se il massimo che fate è scrivere ogni tanto qualche documento word per quello ci sono altri mac numero due il punto più importante questa attività professionale qualunque essa sia dovete farla con una suite prodotta da apple quindi dovete utilizzare software apple tra un attimo vi dico il perché numero 3 è meglio se non siate proprio il classico utente inesperto perché per la prima volta questo macbook non mi è sembrato proprio pronto e privo di difetti come lo è stato per molti altri prodotti apple io oltre che montarci video sopra ci programmo quindi per me è proprio l'ultimo dei problemi ma perché vi ho detto che dovete utilizzarci dei software apple per capirne il potenziale beh ora vi faccio questo esempio io quotidianamente monto video mediamente complessi sempre in 4k dalla durata media di 10 minuti premiere edius sony vegas non c'è storia li ho provati tutti per me il miglior software di editing è final cut esattamente un anno fa mi sono assemblato un pc da gaming editing sopra al quale poi ci ho installato mac os oltre che a windows ovviamente e che in un discorso di prestazioni di potenza hardware è molto più potente di questo macbook e mi è costato circa 1000 euro in meno ma ora parliamo di risultati lo stesso progetto video ripeto 4k dalla durata di circa 12 minuti l'ekintosh me lo ha esportato in più di 35 minuti il macbook che ricordo essere più debole in 8 minuti sbalorditivo invece programmi come una banale conversione fatta con handbrake con lo stesso file un video 4k dal peso di circa 6 gigabyte l'ekintosh lo ha convertito in 6 minuti il macbook pro in 17 minuti questo perché perché final cut come già detto è sviluppato da apple e ormai chi lo nega è uno stupido i software di apple sui mac sono ottimizzati in una maniera eccellente decollano sui mac riescono a essere molto performanti con un hardware scarso questo perché perché l'ottimizzazione conta tantissimo non è soltanto una parola inventata dagli apple fags per esempio qui lo dico e qui ci scommetto io non avrei la minima paura di affrontare un editing 6k o anche 8k con questo mac sono quasi sicuro di non avere il minimo problema a patto che lo monti con final cut quando invece si utilizzano software di terze parti quali possono essere handbrake o altri software di editing come premier che non sono ottimizzati per una configurazione in particolare girano in modo uguale su tutti i processori ovviamente gli conta la potenza bruta il computer più potente completa il lavoro in meno tempo io però nel mio particolare caso mi sono creato il mio ecosistema apple mi trovo benissimo funziona perfettamente e molto spesso avevo l'esigenza di editare video in mobilità ho fatto uno più uno e ho capito che per me questo macbook pro è stata la scelta migliore che potessi fare ma così come per me è stata la scelta migliore potrebbe essere la peggiore per un'altra persona proprio per i motivi che vi ho appena spiegato beh ragazzi per questo video era tutto ma ci sono tantissime altre cose da scoprire quindi io vi do appuntamento alla sua recensione completa